Buonasera a tutti. Saluto la nostra segretaria, il nostro sindaco, tutti i consiglieri e assessori e coloro che però stasera diciamo che non ci possono seguire da casa perché non funziona il collegamento a internet. Passo la parola alla segretaria per l'appello nominale. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Iniziamo con l'appello. Roccia Niceto, Picone Sara, Saccomandi Domenico, Manelli Valeria, Di Lodovico Massimiliano, Gramenzi Lina, Mandolese Fiorenzo, Monticelli Marco, Di Marco Donato, Rampa Graziano e Torre Rita, Tini Valentina, Di Stefano Giovanni Carmine. Va bene. Allora, sono le ore 20 e 19, il numero legale c'è, apriamo la seduta. Prego. Di nuovo buonasera. Se ci sono interrogazioni, prego consigliere Rampa. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Due osservazioni indirizzate al Sindaco o agli assessori delegati. Utilizzo del campo sportivo di Castelnuovo. Girano voci contrastanti su chi ha la proprietà del campo. Teoricamente non ci si sta a capire più niente. Ci doveva essere un torneo giovanile ad altissimi livelli, a cui avrebbero partecipato decine di società le più importanti d'Abruzzo. È stato annullato perché non c'era la disponibilità del campo. Chiedo al Sindaco di riferire in consiglio, in quanto i cittadini vogliono sapere come stanno effettivamente le cose. Poi ci sono brutte notizie per quanto riguarda la società sportiva. che cosa c'è di vero e se il Sindaco è informato sull'evoluzione di come stanno andando se ci sono trattative in corso da parte dell'ex Presidenza per continuare il rapporto di collaborazione con il Castelnuovo Calcio. È la prima interrogazione, la seconda, rapida. Chiedo al Sindaco o all'assessore delegato se abbiamo un tabellone estivo di eventi. Dal momento che tanti comuni pubblicizzano sui vari siti, su internet, i loro tabelloni, ma Castellalto non mi sembra, se io me lo sono perso, non lo so, ma non pare che ci sia qualcosa di pubblicizzato. Chiedo, e insieme a me in tanti se lo chiedono, se il Comune si è attivato per rendere la stagione estiva un pochettino più attrattiva sia per i residenti che i non residenti. se c'è qualcosa da organizzare oppure organizzato ce lo dite, in modo che la gente sa effettivamente se quest'estate il nostro Comune avrà degli eventi. Grazie. Grazie consigliere Ramba. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue da casa. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo del campo sportivo di Castelnuovo Romano, posso dire questo, che lì c'è una convenzione, convenzione stipulata nel 2016, gennaio 2016, con la società SD Castelnuovo Romano e nella convenzione è previsto il trasferimento in caso di vendita della società. La società Castelnuovo Romano è stata venduta al signor Di Stefano Dino Attiglio e il signor Di Stefano ha mandato presso il Comune di Castellalto una nota che noi l'abbiamo recepita come appendice per dare seguito alla convenzione fino a gennaio 2026. Quindi scaderà non l'anno prossimo, ma il gennaio del prossimo anno ancora. Quindi questo è il quadro, il quadro dal punto di vista, diciamo, della gestione del campo sportivo. Torneo, torneo estivo, dei ragazzi, a me personalmente non è arrivata nessuna comunicazione, ma bensì io, quando ho saputo questa, mi avevano già detto che il torneo non lo facevano più, le motivazioni non lo so. Posso dimostrare ulteriormente che hanno richiesto dal lunedì 24 per l'intera giornata fino al 2 agosto per i campi estivi, quindi io me l'hanno chiesto a me, io gentilmente l'ho chiesto l'utilizzo e mi è stato concesso, quindi lunedì partono i campi estivi senza nessun problema. C'è un'altra manifestazione che mi hanno chiesto, perché non si sono messi d'accordo con le spese, eccetera, eccetera, ma non ci voglio tornare su altri temi che possiamo sempre mettere sopra il tavolo, e quindi la famosa Summer Cup. Quindi mi è arrivato anche questa richiesta. Io già ho inoltrato al Presidente che dal, se non vado errato, 8 luglio fino, penso al 20, quindi sono due settimane, quindi io già gli ho inoltrato la richiesta. Adesso gli faccio anche una chiamata, perché mi piace, diciamo, colloquiare con le persone, nel senso trovare la giusta, penso che sia una cosa estremamente corretta, dare il campo sportivo a questi ragazzi, perché ormai, se non vado errato, la 21esima edizione, quindi è anche un modo per aggregare il nostro territorio, il nostro popolo castelnovese, ma non solo, di Castelbasso, di Castellalto, chiunque esso sia. E quindi io ho fatto la richiesta al Presidente, sicuramente, ma adesso interloquisco anche telefonicamente, mi darà sicuramente risposta positiva, altrimenti io ho la mia arma che è l'ordinanza, prendo il campo, non c'è nessun problema. Ecco perché dico che non mi è arrivato richiesta per il torneo dei ragazzi, altrimenti io avrei, anche se lui si sarebbe opposto al massimo, ma abbiamo sempre lo strumento che il Comune si riserva, diciamo, di prendere il campo, sempre compatibili con le partite da fare, non so, di campionato, eccetera, eccetera, il resto io posso usufruirne, quindi, diciamo, ma non credo che ci sia questa problematica. Per quanto riguarda la fine del Castelnuovo, allora io mi sono adoperato l'anno scorso affinché questo brutto evento non accadesse. Questo signore io non conoscevo, il signor Di Stefano, il Presidente, non lo conoscevo, però, diciamo, la mia è stata solo di mettermi a disposizione per delle cose che potevano servire al Castelnuovo Calcio. Poi c'è un Presidente che ha venduto il Castelnuovo Calcio, un Presidente che ha comprato il Castelnuovo Calcio, Di Floriano Giangarlo ha venduto e ha tenuto questa società per 19 anni. Il signore Di Stefano ha acquistato con un atto notarile e penso che non si sia, da quello che sento, non si sia trovato bene a Castelnuovo. Il rapporto con la cittadinanza, il rapporto con imprenditori locali e quindi pare che stia trattando la cessione del titolo sportivo con la Rosetana. A questa mattina pare che hanno trovato un punto d'incontro e quindi lui sta aspettando che venga versata la somma richiesta, quindi penso che sia quello che ha pagato e non ha tanto intenzione di andare avanti con questa società. Io come sindaco ma anche come ex calciatore del Castelnuovo Calcio, tifoso del Castelnuovo Calcio, dirigente del Castelnuovo Calcio, quindi diciamo sono stato in mezzo alla società per tanti anni, mi occupavo di ragazzi e questo mi dispiace se l'anno precedente ho fatto il mio piccolo. Quest'anno sicuramente con lui non ho nessuna intenzione, se lui piace questa cittadina, piace questo territorio, piace questa gente di Castelnuovo e mi fa piacere che rimani e faccia il suo campionato che noi non pretendiamo categorie superiori. Se lui da come si sente non è soddisfatto, lui farà la sua strada. Se il Presidente non riesce a vendere e non vuole riscrivere la squadra e riconsegna all'amministrazione e in primis al sindaco, io non è che mi farò portavoce, mi impegnerò affinché di trovare delle persone di Castelnuovo per rimettere in piedi la squadra, altrimenti se la strada è questa c'è il rischio che il Castelnuovo Calcio diventerà Rosetana Calcio Castelnuovo. Quindi c'è anche questa possibilità. Quindi penso che sono stato abbastanza esaustivo. Grazie. La parola a Valeria Manelli. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La ringrazio della domanda consigliere Rampa, perché il calendario sta per uscire, mancano alcune date che devono essere definite e poi gli atti formalizzati per quel che riguarda gli eventi del Comune. Quindi il tabellone ovviamente comprenderà come tutti gli altri Comuni le iniziative delle associazioni e le iniziative che il Comune metterà su. Grazie. Il Dottor Ramba ha diritto a replicare se è rimasto soddisfatto o meno? Io da ex Presidente, da calciatore, apprendo come un dramma il fatto che il Castelnuovo Calcio da come il Sindaco ci ha riferito dobbiamo preparargli il funerale. Come è successo in altre realtà calcistiche tipo Sant'Egiglio di recente che è lo stesso e ripartirà da zero. Noi avremo una seconda categoria e andremo la domenica a vedere la seconda categoria oppure verremo a Villatorre a vedere la torrese in eccellenza. Non è allegra la cosa ma questa è al momento la realtà dei fatti. Grazie Dottor Ramba. Passo la parola al Sindaco. Scusami Presidente, grazie. Allora volevo dire che io l'anno scorso addirittura diciamo fui anche accusato che portai questo questo Presidente, il Presidente, il signor Di Stefano, ma io personalmente non ho nessun potere di portare nel mio territorio nessuno, nel senso che c'è uno che vende, uno che acquista e quindi automaticamente diventa lui proprietario. Io mi auguro perché ripeto lei consigliere ha fatto il Presidente, ha giocato col Castelnuovo come ho giocato anche io in seconda, in prima e quindi c'è questo l'anno scorso, mi sono anche un minimo adoperato per dar, altrimenti il discorso finiva l'anno scorso. L'abbiamo portato avanti per un anno, sicuramente questo ha speso parecchi soldini, non so per quale motivo perché salvarsi era un discorso, lui forse voleva, non so, vincere il campionato ma c'erano due realtà completamente fuori portata tipo il Teramo Calcio e il Giuliano Calcio e quindi diciamo ha speso un bel gruzzolo insomma, quindi da quello che si sente di ufficiale ancora non c'è niente, speriamo bene, speriamo, io soprattutto se lui lascia il Castelnuovo non è che mi dispiace più di tanto, se porta via il titolo questo mi dispiace perché sinceramente è un qualcosa che abbiamo creato noi, Castelnuovo, e l'abbiamo portato avanti noi per tanti anni. Sì, c'è forse questa promozione reale, ma anche questa, forse la cosa che è, la scoccia che ha fatto traboccare il vaso è stata anche questa terza categoria che nella finale svolta due domeniche fa c'erano 300 persone, forse, ecco aiutami a dire, e questo significa ridare entusiasmo a un ambiente che Castelnuovo non lo sente, non lo sente perché ragazzi che arrivano da Reggio Calabria, da Torino, non li conosciamo nessuno, tre mesi poi li vendono, a Viellino ce ne stavano 3-4, quindi a vedere la partita siamo sempre le solite 10, massimo 15 persone di Castelnuovo. Quindi una eccellenza non si può mantenere con 15 tifosi o 20 tifosi e quindi lui sicuramente si è fatto un po' di conti e diciamo io mi auguro di no, faccio il tifo ancora affinché qualcuno possa acquistare di Castelnuovo. Grazie. Grazie, ci sono altre interrogazioni? Quindi passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Oggetto, presa d'atto ed approvazione verbale seduta del Consiglio Comunale del 19-4-2024. Oggetto, Unione dei Comuni, Colline del Medio Romano e Sostituzione Consigliere. deliberazione del Consiglio Comunale del 13 data 19-4-2024. Oggetto, riordino imbiando di pubblica illuminazione esistente negli agglomerati industriali ricadente nel Comune di Castellalto. Approvazione schema di convenzione tra Arap e Comune di Castellalto. Rinvio. deliberazione del Consiglio Comunale numero 12. Oggetto, ricognizione servizi pubblici locali ai sensi del decreto legislativo del 23 dicembre 2022 numero 201. Adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022 numero 118. deliberazione del Consiglio Comunale numero 11. Approvazione del bilancio di previsione finanziaria 24-26, articolo 151 del decreto legge numero 267-2000 e articolo 10 decreto legge numero 118 del 2011. deliberazione del Consiglio Comunale numero 10. Documento unico di programmazione DUP periodo 24-26, articolo 170,1 del decreto legislativo 267-2000. Discussione e conseguente approvazione, articolo 170,1 del decreto legislativo numero 267-2000. deliberazione del Consiglio Comunale numero 9. Oggetto, articolo 58-133-2008, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, anno 2024. deliberazione del Consiglio Comunale numero numero 8. Oggetto, verifica qualità e quantità delle aree da destinare alle risidenze, alle attività produttive terziarie, esercizio 2024. deliberazione numero 7. Oggetto, approvazione a liquide addizionali comunali all'IRPEF, anno 2024. deliberazione del Consiglio Comunale numero 6. Oggetto, approvazione a liquide e detrazioni imposta municipale unica, anno 2024. deliberazione numero 5. Oggetto, ratifica delibera di giunta comunale numero 30 del 7-3-2024. variazione d'urgenza del bilancio 2023-2025, anno 2024. in esercizio provvisorio, articolo 175,4, articolo 163,3 e 7 del decreto legislativo 267-2000. articolo 15,4 bis del decreto legge 77-2021, convertito in legge 108-2021. deliberazione del Consiglio Comunale numero 4. Presa d'atto ed approvazione verbali seduta del Consiglio Comunale del 13-12-2023. deliberazione del Consiglio Comunale numero 2. Oggetto, comunicazione e deliberazione giunta comunale numero 189 del 18-12-2023. avente ad oggetto prelievo dal fondo di riserva ex articolo 263 del decreto legislativo 267-2000, seduta in videoconferenza. deliberazione del Consiglio Comunale numero 19, numero 1, scusate, era data 19-4-2024. comunicazione e deliberazione numero 348-2023. adottata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo nella seduta del 7-12-2023. rendi conto 2021. passiamo alla votazione. favorevoli? contrari? astenuti? ok passiamo votiamo per l'immediata eseguibilità passiamo al numero 2 oggetto, presa d'atto ed approvazione verbale seduta del Consiglio Comunale del 28-5-2024. proposte del libro del Consiglio Comunale deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 modifiche e integrazione al regolamento del servizio di polizia locale del Comune di Castellalta approvate con deliberazione del Consiglio Comunale numero 29 del 18-8-2021 deliberazione del Consiglio Comunale numero 16 ratifica delibera di giunta comunale numero 50 del 24-4-2024 variazione d'urgenza al bilancio di previsioni finanziarie del 2024-2026 articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267-2000 seduta in videoconferenza deliberazione del Consiglio Comunale numero 15 oggetto, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 267 del 2000 passiamo alla votazione favorevoli contrari astenuti astenuti due perché erano assenti era assenti allora nove scusi punto numero 3 oggetto adeguamento regolamento per la disciplina della tassa dei rifiuti tari devi illustrare Saccomandi prego la parola all'assessore Saccomandi allora grazie presidente e buonasera a tutti ok allora portiamo in approvazione con la delibera la modifica al regolamento tari la modifica è stata già oggetto di discussione nella commissione statute e regolamenti che è stata fatta qualche settimana fa era presente anche il consigliere Di Stefano come diciamo come membro della commissione come componente e quello che andiamo a modificare è questo l'articolo 24 altre agevolazioni andiamo ad inserire il punto 3 era formato da due punti inseriamo il punto 3 e il punto 4 cosa prevedono il punto 3 diciamo va a a specificare meglio quale sono le attività di volontariato senza scopo di lucro operanti nei settori indicati in sede di liberazione consigliare quindi abbiamo facciamo un rimando alla delibera di consiglio dove andiamo ad approvare le tariffe le attività sono quelle ritenute strategiche fondamentali per l'ente e del territorio mentre nel punto 4 andiamo a definire la modalità diciamo come possiamo come può un richiedente fare appunto fare l'istanza quali sono i requisiti il possesso la detenzione e quando poi avviene la decadenza di questo requisito quindi sostanzialmente andiamo con la delibera andiamo ad approvare i due punti che inseriamo all'interno del regolamento passo la parola alla consigliera Rita e Torre grazie sì buonasera grazie allora non tanto volevo fare due domande per dei chiarimenti perché nella diciamo sia nel terzo punto quando si dice che le attività di questi diciamo organi associazioni devono essere ritenute strategiche rilevanti ma parlando poi volevo capire che tipo cosa si intende per strategiche rilevanti e quindi perché parlando un pochino approfondendo con gli uffici più che strategiche rilevanti o meglio oltre ad essere strategiche rilevanti si faceva riferimento ad associazioni nell'ambito della protezione civile o dell'ambito socio-sanitario quindi diciamo che nella nostro comune sono facilmente individuabili perché non abbiamo tutte queste associazioni che fanno capo queste caratteristiche quindi detto questo volevo capire un attimo quindi se mi confermavate questa cosa e ovviamente la nostra perplessità è la stessa del revisore dei conti che nel nel suo parere comunque dà un parere favorevole ma con riserva dal momento in cui questi minori entroiti eventualmente derivanti da questi sgravi devono essere comunque compensati da risorse individuate in altri capitoli nel bilancio e ad oggi da quanto ci risulta questi capitoli non sono ancora stati individuati motivo per cui il revisore dei conti dà un parere favorevole ma comunque in realtà è incompleto perché con riserva e quindi credo che insomma quando si decide di fare questo tipo di scelta prettamente politica perché ovviamente è una scelta politica più o meno condivisibile se si fa riferimento ad attività strategiche del territorio ovviamente ci può essere anche il riconoscimento da parte nostra del valore diciamo nobile della scelta però le cose che ci lasciano perplessi sono due una il fatto che quando si fa una scelta politica bisogna comunque poi anche concretamente individuare i mezzi e gli strumenti per dare atto altrimenti rimane il regolamento e poi è fine a se stesso o comunque capire se questa scelta va ad influenzare poi negativamente magari qualche capitolo che può impattare sui cittadini e poi insomma senza essere lo dico così velatamente ma se mi confermate ci confermate che le associazioni che fanno insomma individuabili sono un paio all'incirca e sono ben individuabili anche con nome e cognome senza voler fare un'affermazione forte però ci sono amministratori di questo ente che comunque sono molto vicini a queste associazioni e credo che per un senso anche di buonsenso sarebbe insomma carino non influenzare magari delle scelte politiche ecco non voglio andare nel personale però di protezione civile ne abbiamo solo una lodevole il lavoro che fa ma credo che un amministratore non solo non debba non possa far parte del direttivo e non ci sono amministratori nel direttivo ma non è segreto che ci sono amministratori che comunque siano attivamente molto presenti e molto attivi all'interno di questa associazione e quindi una scelta di questo genere comunque va a beneficio di questo tipo di associazione e credo che sarebbe insomma eticamente corretto non non essere influenzati semplicemente perché oltre allo scopo dell'associazione si è parte attiva all'interno questo però senza voler accusare nessuno è semplicemente una nostra riflessione qualora ci confermiate che comunque i beneficiari di questo eventuale provvedimento sono quelle che insomma abbiamo chiaramente fatto capire grazie grazie non ho letto attentamente il regolamento perché sinceramente non sapevo tutte queste cose per la prima volta ho avuto la fortuna di leggere 31 pagine del nuovo regolamento che disciplina la raccolta la tassa sulla tari volevo chiedere all'assessore un paio di cose che ho sottolineato allora da premettere che le tariffe sono determinate in modo da garantire la totale copertura integrale dei costi che noi per cui il comune non ci rimette nulla è questo che è scritto è quello che noi andiamo ad approvare cioè in articolo 12 il secondo sì prego il regolamento già era il pilone ne proviamo solo le modifiche perfetto per cui ripetiamo il tributo garantisce la copertura di tutti i costi per quanto riguarda l'esercizio del servizio della gestione dei rifiuti una cosa che probabilmente i cittadini non sanno ci sono tante famiglie che hanno portatori di handicap handicap grave parliamo dell'articolo 3,3 articolo articolo 3 cioè l'articolo 24 agevolazioni se i cittadini dovrebbero essere informati tante famiglie hanno portatori di handicap anche grave possono fare richiesta per ottenere una riduzione del 20% sulla parte fissa e su quella variabile per cui è una cosa importante potrebbe interessare a decine di famiglie sul nostro territorio il 20% sembra poco ma su importi notevoli è un importo non trascurabile e un'altra agevolazione è che io non sapevo per nuclei familiari superiori a 4 unità possono chiedere anche questi una riduzione fino al 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile però logicamente attraverso l'applicazione dell'ISE cioè non è valida per tutti poi una cosa che mi ha fatto un pochino sorridere sempre all'articolo 24 dice per il primo anno i nuclei familiari residenti i nuovi nuclei familiari residenti nei centri storici di Castelbasso teoricamente zero perché non c'è nessun nucleo però viene riportato sul e Castellalto forse Castellalto ha la fortuna di qualche nuovo insediamento familiare nuovo e la stessa cosa oltre che per i residenti anche per attività commerciali che vengono a iniziare l'attività nei centri storici di Castelbasso e Castellalto per cui possono fare richiesta per ottenere degli sgravi queste cose non le sapevamo ed è giusto che i cittadini sappiano che c'è la possibilità di ottenere poi l'ultima cosa articolo 34 volevo chiedere se il comune qui dice in caso di omesso insufficiente o tardivo versamento dell'atario risultante dalla dichiarazione sulle scadenze viene irrorata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato siamo noi cioè il comune che al momento della del diciamo dell'ingiunzione provvede a irrorare la sanzione è tutto grazie grazie dottor Ramba la parola all'assessore Saccomandi prego dalla dell'interrogazione della consigliere torre allora noi non abbiamo indicato in maniera specifica quali sono le associazioni perché nel rimando della delibera di consiglio se non ricordo male ma è uno dei punti che tra poco andremo ad approvare si fa riferimento ad associazioni che fanno attività di tipo di protezione civile e associazioni che svolgono ruoli nell'ambito sanitario quindi non ad oggi le conosciamo facciamo sì possiamo fare anche degli esempi però nulla vieta che tra qualche tempo ne possano arrivare anche altre di associazioni che fanno queste attività ci limitiamo a quello e in parte anche quello che diceva il consigliere Rampa la legge che viene citata in tutti gli articoli delle agevolazioni che la numero la 147 del 27 dicembre 2013 dice proprio questo che il 7% dell'importo totale della Tari può essere comunque può andare nelle agevolazioni e va coperto con la fiscalità generale dell'ente quindi fino al 7% è una facoltà scegliere la percentuale noi siamo al ben al di sotto perché le nostre agevolazioni computano intorno a 30.000 euro 30.000 euro rispetto al nostro PEF che è di 1.200.000 e rotti 1.000 euro siamo intorno capite benissimo al 3% 3.5% finisco è giusto quindi dicevo che l'intero la copertura totale delle tariffe viene data dal PEF all'interno c'è questa possibilità delle agevolazioni e sui vari articoli e sulle varie esenzioni posso dire che i cittadini possiamo fare anche una diffusione più adeguata però i cittadini sono informati tant'è che molti comunque rinnovano poi la richiesta e l'ufficio è molto attento rispetto a questo a capire se i cittadini hanno ancora il possesso oppure è venuto meno quindi però magari una diffusione maggiore la possiamo fare credo che ecco prego la parola all'assessore Valeria di Vanelli grazie presidente io mi rivolgo alla consigliera Ettore e voglio dire che trovo abbastanza vergognoso quello che è stato detto questa sera in consiglio comunale innanzitutto perché i regolamenti sono di carattere generale e quindi non vanno mai a individuare nomi e cognomi o associazioni in secondo luogo vorrei ricordare che l'esempio che è stato fatto probabilmente dagli uffici era solo per far capire il tipo di attività e comunque mi sembrava abbastanza chiaro anche nella delibera quindi credo che questo possa considerarsi come un attacco o comunque una non corretta considerazione di quelle che sono le attività di volontariato che si fanno sul nostro territorio ma in generale le attività di volontariato e soprattutto vorrei anche ricordare che nel caso della protezione civile gruppo alpini e protezione civile di Castellalto si trovano in un immobile che è di proprietà dell'ente e che è stato rimesso su completamente da questi volontari con un grande lavoro e con grande dedizione e vorrei ricordare anche quello che è stato fatto durante tutte le emergenze se poi la consigliera Ettore non ricorda o non vuole riconoscere quello che è il lavoro e la collaborazione che c'è stata da parte di queste associazioni ma ce n'è anche un'altra che adesso non sto qui a menzionare parliamo comunque sempre di volontariato di soccorso civile e di attività di carattere sanitario ha diritto alla replica la consigliera Ettore sì allora grazie relativamente diciamo alla parte più tecnica cioè al fatto che manca ancora la copertura non è stato ancora individuato il capitolo non è che lo dico io o noi come insomma polemica sterile e politica ma lo dice il revisore dei conti e quindi oggettivamente altrimenti non avrebbe rilasciato un parere con riserva ma lo avrebbe rilasciato totalmente come ha fatto in altre situazioni io rigetto totalmente come fate voi spesso quando noi polemizziamo quanto mi viene detto anzi non accetto proprio che mi si dica che perché adesso la state strumentalizzando voi la cosa in maniera diversa perché io non ho assolutamente attaccato chi fa volontariato perché insomma sarebbe fuori da questo mondo e anzi ho detto anche che riconosciamo il valore nobile di questa scelta ma ho semplicemente detto che l'assessore Saccomandi mi ha confermato che comunque ad oggi di associazioni che fanno parte possono essere riconducibili a questo tipo di attività ce n'è una magari auspichiamo ne nasceranno altre ben venga grazie all'apporto di tanti nostri concittadini non lo abbiamo mai segnalato in questi anni e sinceramente la cosa spesso ci è stata fatta notare anche non solo da chi è vicino a noi ma anche da chi è più vicino a voi perché siamo comunque eleganti e non vogliamo fare supposizioni o attacchi che non hanno senso però semplicemente un amministratore e questo non c'entra nulla con il lavoro con la nobiltà delle associazioni che anzi abbiamo sempre detto che su questo territorio spesso e volentieri purtroppo le lacune dell'amministrazione da ogni punto di vista quindi non solo per il volontariato ma anche ecco prima si parlava del calendario degli eventi abbiamo sempre detto che sono le associazioni a sopperire alle lacune dell'amministrazione soprattutto dal punto di vista sociale quindi non metteteci in bocca cose che non abbiamo né mai pensato né mai detto ma abbiamo semplicemente fatto un'osservazione anche in maniera velata quindi non capisco perché vi sentiate sentiti attaccati se l'osservazione era assolutamente fuori luogo ma un amministratore comunque non può far parte di un direttivo di un'associazione del territorio che amministra o comunque anche se non ne fa parte ma comunque è dentro ne fa parte in maniera indiretta perché non risulta magari nel nel CDA nell'organico nel documento ma comunque è fortemente integrata a mio avviso ci sono delle scelte che si fanno ma è anche una legge che lo dice soprattutto per il buon senso perché le attività le associazioni possono in qualche modo essere influenzate dalla presenza all'interno forte di un amministratore e questa non è una cosa nuova ma è una cosa che vale in ogni territorio sono delle incompatibilità per cui io non ho detto nulla riguardo all'attività lodevole e di grande pregio delle nostre associazioni e in primis della protezione civile che è chiamata a dare il proprio contributo proprio nei momenti più difficili dei nostri territori come accade in ogni territorio in ogni angolo d'Italia ma ho semplicemente fatto un'osservazione di un altro tipo un altro tipo di osservazione non andando a parlare a sfavore dell'associazione ma semplicemente ripeto avendo visto che negli anni non l'abbiamo mai segnalata ma c'è a nostro avviso questo tipo di perplessità relativamente al punto così concludo e faccio anche la dichiarazione non votiamo contro ci asteniamo semplicemente perché ripeto consideriamo lodevole il fatto che comunque si vadano ad avvantaggiare associazioni in generale che siano strategiche per il territorio ma dal punto di vista tecnico questa è la motivazione principale c'è comunque un parere anche con riserva perché non sono ancora stati individuati i fondi e magari ci aspettiamo successivamente di vedere come dare realizzare questa scelta politica e vedere a discapito di chi questa scelta andrà comunque ad influire perché magari adesso è nobile ma domani se dovesse andare ad impattare su un altro servizio piuttosto che su un'altra categoria potremmo non essere d'accordo quindi ad oggi ci asteniamo grazie grazie la replica la replica comunque diciamo che io non ho assolutamente preso scusa vergognoso quello che è stato detto mi schiero vabbè comunque parlo io teoricamente noi non potremmo concedere la replica sulla replica questo ok però visto che i tempi non li avete osservati nessuno cioè nessuno di voi nemmeno io sto con il timer per vedere dichiarazione di voto prego allora io a nome del gruppo faccio la dichiarazione di voto ovviamente abbiamo proposto siamo favorevoli a questa modifica del regolamento che tra l'altro è stato votato anche da un consigliere della minoranza appunto nella commissione quello che è stato detto è fuori luogo il vostro voto la vostra la vostra assenzione è semplicemente pretestuosa perché il comune di Castellalto sicuramente non ha problemi a trovare sul bilancio qualche centinaia di euro e voglio ribadire che sicuramente questo provvedimento non riguarderà la protezione civile potete stare tranquilli perché appunto si trovano in un immobile del comune il fatto di dire che sia una proposta che va ad avvantaggiare qualcuno per finalità politica ecco questo ribadisco che è semplicemente vergognoso perché l'essere ai contrari adesso vi assenete ma comunque in qualche modo siete ai contrari a dare delle agevolazioni a delle associazioni in questo caso che agiscono sul nostro territorio significa essere contrari alle loro in qualche modo alle loro attività e vi ribadisco che comunque sicuramente questa cosa non riguarderà la protezione civile la dichiarazione di voto che abbiamo fatto non corrisponde a quanto detto non siamo né contrari e né perciò quindi no nel senso che ok se non ci sono altri interventi passo alla discussione del punto numero 4 la votazione è vera scusate favorevoli contrari astenuti due astenuti vogliamo per l'immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti passiamo ora alla discussione del punto numero 4 oggetto approvazione del PEF 2024 2025 validazione da parte di Agir ente territoriale competente ed approvazione del PEF Tari 2024 la parola al Saccomandi non ho messo la risposta mi riallaccio al punto precedente del fatto del parere del revisore con riserva perché all'atto del bilancio non avevamo ancora contezza dell'importo da mettere che ricordavano appunto le agevolazioni allora passiamo all'approvazione l'approvazione del PEF faccio una parte introduttiva prima per andare un po' poi a indicare le varie i vari documenti allegati allora diciamo che tutti gli enti devono interfacciarsi oggi con due autorità presenti sul territorio che è l'agir che viene indicato come territorialmente competente con l'acronimo di etc e l'arera che poi diciamo in una gerarchia di autorità l'arera è quella che disciplina in qualche modo attraverso delibere determina provvedimenti e regolamenti tutta una serie di attività quindi diciamo l'agir deve interfacciarsi a sua volta con l'arera l'arera è l'autorità di regolazione per l'energia le reti e l'ambiente e la delibera che va a disciplinare un po' tutto il sistema regolatorio per quanto riguarda il PEF è la delibera la 363 del 2021 che negli atti che vedete che sono posti con la delibera viene più volte ripetuta come si va a formare diciamo il PEF il PEF parte da innanzitutto sta come piano economico finanziario parte da il dato di fatto il dato che l'ente il costo che l'ente sostiene nell'annualità in corso e poi fa riferimento alle due annualità precedenti al consuntivo delle due annualità tant'è che trovate anche negli allegati il sistema MTR-2 o il sistema A-2 quindi sta proprio ad indicare che andiamo a prendere tutta una serie di costi che abbiamo sostenuto ripeto nei due anni precedenti quindi è una composizione tra il costo rispetto all'annualità diciamo in corso e insieme al costo sostenuto due anni prima questo come avete potuto vedere nei vari documenti non è anche il foglio di calcolo non è una semplice diciamo somma algebrica di numeri perché ogni numero poi viene amplificato da una serie di fattori fattori di sharing o altri che trovate in relazione quindi ogni diciamo ogni somma poi viene ogni numero viene poi elaborato e quindi il tutto non è non è una semplice somma ma è qualcosa di più come diciamo viene una volta che abbiamo tutti i dati noi abbiamo inviato una serie appunto una serie di documenti a GF Ambiente che è la ditta che si occupa per l'ente della redazione del PEF GF Ambiente ci ha rimesso come vedete dall'allegato una relazione numerica e anche descrittiva che appunto va a dire quello che è stato fatto sia dal punto di vista diciamo appunto dei numeri ma anche dal punto di vista della descrizione quindi va a dare una serie di indicazioni la relazione che è stata rimessa da GF Ambiente insieme al PEF grezzo del gestore che comunque viene fornito dal gestore rispetto ai costi diretti che il gestore ha il tutto viene inviato ad Agir ed Agir come avete visto ci ha rimesso il formato analitico Excel la determina dirigenziale del direttore e la relazione di accompagnamento questi tre atti sono gli atti che poi andiamo ad approvare con la delibera e quest'anno appunto perché Arera nella serie di discipline che sta facendo e di delibere e di determine che sta ogni diciamo ogni 10-15 giorni emette un provvedimento nuovo dove appunto tutti gli enti territoriali competenti fanno richiesta per dei chiarimenti loro su quello danno delle risposte molto più puntuali tant'è che noi abbiamo fatto una serie di interlocuzioni con Agir e questo è durato un mese e hanno cercato veramente di tutto all'ente qualsiasi tipo di costo che abbiamo sostenuto sia in corso e sia in corso di annualità ma anche riferito a due anni precedenti questo è un po' come si compone è quello che è stato l'iter sui numeri c'è come avete potuto vedere un incremento l'incremento è dovuto principalmente perché abbiamo fatto una gara nuova e rispetto ai 6-7 anni fa il canone purtroppo ma è aumentato e poi per una serie anche di costi diciamo indiretti quali personale e altre cose che mi sono appuntato se volete poi possiamo entrare anche nello specifico però che anche questo hanno subito un leggero incremento e tutto questo ripeto fa la cifra di 1.284.000 mi fermo qui dite voi se avete altre cose da chiedere grazie grazie assessore passiamo la parola a Tini Valentino buonasera a tutti grazie presidente allora grazie all'assessore Saccomandi per aver spiegato diciamo i criteri con i quali sono stati con il quale è stato redatto il PEF ma la cosa importante che si evince dall'eventuale approvazione di questa delibera è appunto che è vero sì che il PEF subirà un incremento ma non tutti sanno che l'incremento del PEF comporta una maggiorazione sulla Tari quindi approvando questa delibera stiamo aumentando la tassa sui rifiuti nello specifico abbiamo opportunamente fatto un approfondimento con gli uffici ma cose dati che sono anche riportati all'interno degli allegati della delibera e quindi dobbiamo dire comunque che ci sarà un aumento rispetto al 2023 per l'annualità del 2024 di circa l'8% per la precisione 7,95% sono quasi 100.000 euro annui di aumento che andranno a gravare sulle tasche dei cittadini quindi questa che poi è anche una scelta di tipo politico perché volendo i fondi anche per la copertura di questi aumenti ripeto sempre facendo una scelta politica e che non mi venga detto che questo è un ulteriore attacco perché ogni volta che l'opposizione prova a far emergere qualche situazione comunque corredata da una documentazione tecnica e quindi da atti ci viene detto che noi dobbiamo attaccare politicamente noi siamo qui per diciamo far presente anche queste cose addirittura nel 2025 scusate ci sarà in previsione un aumento che rispetto al 2023 potrebbe arriverebbe a circa il 12% quindi di questi tempi gravare la pressione fiscale ulteriormente già visto le condizioni in cui si vivono le famiglie con carenza di lavoro precarietà comunque non ci sembra opportuno diciamo venire qui e dover approvare diciamo una delibera del genere quindi volevo avere la conferma se effettivamente i dati riportati qui che ho appena letto genereranno un aumento sulla tassa dei rifiuti che andrà a colpire tutti i cittadini le imprese comunque tutti coloro che pagano la Tari grazie grazie consigliera passiamo la parola alla replica di Saccomandi allora sì per quanto riguarda il 2024 sono queste le cifre nel 2025 ci siamo ripromessi di fare una revisione completa del PEF perché diciamo il 2025 oramai noi abbiamo la gara e si è assestato dal punto di vista del costo che sarà sempre quello per otto anni il 2025 per quanto riguarda i costi indiretti farà riferimento al 2023 nel 2023 noi abbiamo avuto delle economie attraverso varie altre voci di costo che poi sono state inserite nella gara quindi mi sento di dire nel 2025 l'aumento è dovuto al diciamo al costo della post gestione della discarica che somma intorno alle 40.000 euro quelle le dobbiamo lasciare perché comunque sono cose che dobbiamo fare una serie di indagini attività analisi che ci l'arta comunque ci dà indicazioni di quello e l'ente non può in qualche modo mettere il fatto di fare analisi o altri tipi di di indagini quindi quello computa 40.000 euro però sulle sulle cifre e sui costi diretti e indiretti io credo vedremo da qui al prossimo anno ripeto di fare una revisione completa cercando quantomeno di far rimanere lo stesso importo se non farlo scendere di qualche di qualcosa questo è frutto di ripeto la gara oramai è quella è ferma a 940.000 euro di smaltimenti e servizio e quella sarà per 8 anni ora con i costi indiretti dobbiamo cercare di farli di far scendere il totale a diritto alla replica Valentina Tini grazie assessore saccomandi quindi mi ha confermato che comunque per il 2024 ci sarà un aumento sulla Tari mi auguro che per il 2025 si possa lavorare affinché ci sia una riduzione quindi noi come gruppo non ce la sentiamo di gravare sulle tasche dei cittadini ulteriormente quindi aumentando la pressione fiscale pertanto voteremo contro grazie grazie la parola al dottor rampa grazie grazie presidente volevo evidenziare e far presente ai cittadini che come si diceva l'importo che andremo a pagare circa l'8% in più arriverà la prima adesso che gli uffici si attiveranno per rendere esecutiva questa delibera la prima scadenza sarà il 17 luglio ci sono quattro scadenze quattro rate non è questa ok allora perfetto allora chiedo scusa e ne parliamo dopo grazie 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 dottor rampa se non ci sono altri passiamo alla discussione del punto numero 5 la votazione scusate votazione stasera le votazioni scolte sim favorevoli contrari astenuti votiamo l'astenuti 1 votiamo per l'immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti passiamo alla discussione del punto numero 5 punto numero 5 proposta del libero consiglio comunale numero 25 oggetto approvazione a liquide tassa sui rifiuti tari per l'anno 2024 prego la parola all'assessore saccomandi ce l'hai questo allora partiamo diciamo questa l'EPF è stato propedeutica all'approvazione delle tariffe dove appunto andiamo a riportare le agevolazioni che stanno all'interno del regolamento e qui vedete nella parte diciamo iniziale come prima ricordava il dottore ci sono le tre agevolazioni che fanno riferimento a agevolazioni per soggetti portatori di handicap agevolazioni per utenze domestiche e le agevolazioni per utenze domestiche classificate nelle categorie catastali e poi abbiamo inserito come dicevo in fase di approvazione del regolamento la appunto la dicitura valutata dopo i due articoli e andiamo appunto a dire quali sono le le attività che rientrano nelle esenzioni e sono quelle attività nell'ambito del settore sanitario o di protezione civile con sedi insistenti nel territorio comunale ed imponibili ai fini del tributo le rate che andremo con questa delibera andremo a formulare sono quattro la prima del 17 luglio la seconda del 18 settembre 16 novembre e 15 gennaio 2025 come avete visto all'interno della delibera viene anche ma per una questione di tecnicismo viene riportata la parte fissa e la parte la parte variabile che appunto va a dividere la somma del PEF in due somme posso così grazie grazie assessore Saccomandi la parola al dottor Ramba chiedo scusa per prima teoricamente questo importo che noi andiamo a pagare analizzando la delibera 1.284.105 è così articolato una parte fissa e una parte variabile 518.000 fisse e variabile 765.000 euro ho letto con con interesse che noi paghiamo teoricamente quello che smaltiamo al chilogrammo per chi non lo sapesse e lo diciamo 38,37 38,37 centesimi al chilogrammo quasi diciamo 38 centesimi il comune di Castellalto che è di circa 7.200 errotti abitanti ha una capacità produttiva di rifiuti che si stabilizza intorno alle 3.000 tonnellate per cui se facciamo un calcolo 3.000 tonnellate per quasi 40 centesimi i conti sono 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 questi tutto qua grazie grazie ci sono altri del video passiamo alla votazione passiamo alla votazione favorevoli contrari astenuti votiamo per l'immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti ovviamente quindi passiamo alla alla discussione del punto numero 6 che ha come oggetto si numero 6 dimmi dimmi punto numero 6 proposta di liberazione consiglio comunale numero 26 avendo oggetto variazione bilancio 2024 2026 articolo 175 regredo legislativo 267 2000 la parola all'assessore saccomandi con questa variazione è una variazione innanzitutto di consiglio e come avete visto dagli allegati è l'ultimo atto che va a chiudere per quanto riguarda la storia l'iter del del PEF quindi siamo partiti dal regolamento il PEF e con la variazione di bilancio andiamo ad inserire la somma approvata all'interno appunto del bilancio in realtà noi nella fase di approvazione nella fase di approvazione avevamo messo già la cifra di 1.250.000 nello stanziamento iniziale tant'è che adesso la variazione è pari a 34.656 quindi questo per quanto riguarda la tassa sui rifiuti poi ci sono altre altre voci in entrata quali rispetto sempre al bilancio avevamo messo 9.000 euro per quanto riguarda il contributo del BIM per le manifestazioni istituzionali ne aggiungiamo altre perché ci ha concesso 9.000 euro ne aggiungiamo altre 4.000 per maggiori come avete visto dagli allegati per l'adeguamento prezzi del periodo agosto dicembre 2022 abbiamo inserito una somma di 348.000 il contributo della legge regionale per gli interventi di manutenzione straordinaria è in entrata sempre 15.000 euro e il tutto computa una variazione pari a a 400 401.000 euro grazie Assessore Saccomandi ci sono interventi passiamo alla votazione favorevoli contrari astenuti votiamo per l'immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti ok allora vi devo fare una comunicazione sul discorso del punto numero 7 dobbiamo rimediare la discussione per un semplice motivo perché non è stato inserito l'allegato in cioè diciamo non è stato aggiornato più che è inserito per un errore su Alley quindi anche perché poi stasera non abbiamo nemmeno la presenza del responsabile l'architetto Mauriglio che poteva al limite delucidare alcuni concetti chiave per cui passiamo alla discussione del punto numero 8 si rinvia si rinvia passiamo alla votazione favorevoli sul rinvio del punto numero 8 passiamo alla discussione del punto numero 8 eh all'unanimità sì ma l'abbiamo già punto numero 8 proposta deliberazione comunale consiglio comunale del numero 24 oggetto ratifica delibera di giunta comunale numero 64 del 25 2024 variazione d'urgenza al bilancio di previsioni finanziarie 2024 2026 articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 267 2000 la parola sembra l'assessore saccomandi grazie allora qui andiamo a ratificare una delibera di giunta una variazione di giunta fatta il 20 maggio 2024 appunto la delibera di consiglio si va e ratifica principalmente nella delibera di giunta abbiamo inserito due voci in entrata quali il contributo per l'efficientamento del patrimonio pari a 70 mila euro per l'annualità 2024 è un finanziamento regionale che poi è stato diciamo attualmente l'abbiamo indicato per la sistemazione esterna del campo sportivo di Castelnuovo Mano pari a 46 mila euro mentre per quanto riguarda le uscite abbiamo come dicevo in sede di approvazione del rendiconto abbiamo il disavanzo di amministrazione che abbiamo coperto nelle tre annualità 2024 2025 e 2026 per un importo quasi di 4 mila euro e delle economie che sono venute fuori dal lavoro interinale pari a 5 mila e 800 euro queste diciamo sono le voci di costo maggiori in entrata e in uscita che poi fanno la variazione di bilancio grazie assessore saccomandi se non ci sono scusa segretaria se non ci sono passiamo direttamente alla votazione favorevoli contrari astenuti passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti se non ci sono interventi particolari la seduta è sciolta alle ore 21 e 30 diciamo grazie a tutti e buona serata grazie